Oggi è la nostra festa nazionale qui a Singapore, la celebriamo con la Puglia. Come vedete la celebriamo con dei trulli che vedete dietro di me e poi la celebriamo con i singaporeani. E non solo, perché Singapore non è solo quella città-stato di 6 milioni di abitanti che è conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per la sua alta tecnologia, una smart city iper-tecnologica. Qui siamo all'interno di una serra, una serra che riproduce, naturalmente dai tropici, il clima nostro. E nel clima nostro vengono a trovarci non solo i singaporeani, ma turisti da tutta questa regione che è la più grande, la regione che attualmente è quella che ha la più grande crescita globale. Quindi ogni anno qui vengono 15 milioni di persone a visitare queste splendide serre e noi abbiamo in qualche modo pacificamente occupato con questi trulli e con tutti i pannelli esplicativi di cos'è la Puglia, di come si raggiunge la Puglia. E di questo devo dire che siamo veramente grati alla regione Puglia e a Puglia Promozione, perché hanno saputo cogliere dove bisogna essere in questo momento nel mondo, quando tutto il turismo sta ricominciando ormai a partire e noi vogliamo sempre più persone che vengono da quest'area per conoscere una delle nostre regioni più belle. Grazie.